Questo programma è offerto da MEC Solution Olio basso, fedele nel gusto Neuromed Lloyd's by Hotel, vietri sul mare Design in luce Emporio del caffè Non sono proprio la stessa cosa Il manifesto 6x3 che denuncia il tavolo della conservazione A cui sta lavorando il Partito Democratico Sotto le presunte guide di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino E le vele che il Movimento 5 Stelle Fece girare in città con i volti di quei consiglieri comunali Che votando contro una delibera proposta dal sindaco Ciampi Venivano indicati come gli affossatori della festa più importante della città Dalla delegittimazione alla neanche tanto sottile denigrazione Il passo è breve Il messaggio che si lancia cancella di fatto ogni didascalia E mette in primo piano i volti, cioè le persone Quella che potrebbe pure essere la materia del contendere Le conventicole opposte alla trasparenza che si deve agli elettori Sparisce per proporre invece unilateralmente Una sorta di caccia ai ricercati Credo che a suo modo questo tipo di comunicazione politica Stia nella più ampia scia del pensiero breve dominante A cui aggiunge piccole ma significative dosi di imbarbarimento Le vele di Carlo Sibili hanno rappresentato tutt'altro e di molto peggio Quando le abbiamo fatte noi, dice oggi il sottosegretario Erano gogna mediatica Ora vedo titoli di giornale Clementi E la sinistra pelosa Dormire sogni tranquilli Ipocrisia e disonestà intellettuale viscerale Malattia inguaribile A farci ritornare in argomento È proprio la odierna rivendicazione Di quella iniziativa politica violenta E la mancanza a distanza di tempo Di un minimo di sopravvenuta resipiscenza Quelle vele ricorrendo all'inganno del popolo sovrano Proponevano una sorta di caccia all'uomo Con taglia inclusa Nei confronti di quei consiglieri comunali Che avevano votato contro una delibera Peraltro mal confezionata Sulla organizzazione del Ferragosto Avellinese Quella iniziativa Rispetto alla quale il sindaco sulle prime si scusò Ma poi richiamato all'ordine Ne rivendicò a sua volta la paternità Andò ben oltre la gogna mediatica Per vie brevi e disperate Voleva riscrivere la Costituzione Che è una cosa molto più seria Di chi propone un tema Non so quanto vero Vecchio e nuovo Passato e futuro Utilizzando le armi di una goliardia Banale e discutibile Resta comunque erba di contorno Rispetto a quanto comunque di decisivo Accadrà nelle prossime ore E nel fine settimana Da qualunque parte lo si voglia guardare Quello che si approssima è uno scenario elettorale Molto frammentato Nel quale ogni tassello Sarà caratterizzato più dalla necessità Che dalla virtù Questo sembra valere oggi Sia per il centrodestra Che per il centrosinistra Ben trovati A studio sera In diretta Andiamo a concludere La settimana E lo facciamo Con Roberto Montefusco Coordinatore provinciale Di Sinistra Italiana Con padre Siriac Vice parroco Della cattedrale di Avellino Ma anche responsabile Di una Ollus L'associazione Madre Teresa Che si occupa Di progetti molto importanti Che la solidarietà Riesce a confezionare A rendere concreti Per il popolo Del Burundi E ben trovato Stefano Luongo Consigliere comunale uscente Anima fondatore Animatore Dell'associazione Dell'associazione vera Che intende partecipare A pieno titolo Alla prossima Campagna elettorale Insomma Sinistra pelosa Roberto Montefusco Per stare alle cose Delle gogne E dei manifesti Il sottosegretario Sibilia Non perde mai L'occasione Come dire Per confermare Toni Argomenti Non degni Di un dibattito Politico Civile Ricordo a me stesso Che Le vele confezionate Dal Movimento 5 Stelle Furono Immaginate Per denunciare Un voto Espresso Dai consiglieri comunali Nell'esercizio Delle proprie Prerogative Fatto tra l'altro Da chi In quel momento Era al potere In città Governava E amministrava La città Insomma Una provocazione Un atto Di una violenza Politica Diciamo Estrema Che francamente Fossi Nel sottosegretario Sibilia Non Non rivendicherei Diciamo Stefano Stefano Questo Tutti contro tutti Che si Che si profila Poi parleremo Vedremo che cosa accade Nel campo del centrosinistra Ieri c'è stata L'assemblea Promossa Da Sipò Aperta Alle associazioni Sono stati lanciati Dei segnali Ulteriori Forse definitivi Al partito democratico Ma insomma Si tratta di segnali Così impegnativi In qualche modo Che Anche per il tempo Pochissimo A disposizione Insomma È difficile ritenere Che il partito democratico Dentro quel campo Torni ad una riflessione Diversa Da quelle che sta facendo Anche in queste ore Ma questo tutto Tutti contro tutti Insomma In una città Già dilaniata Di per sé Può essere La scossa Che serve O può essere La pietra tombale Su questa città Ma non serve a nulla Direttore Questo tutti contro tutti Io penso che la gente Sia stanca Voglia Pesare Quella che è una proposta Politica In base Al progetto In base al programma In base Alle persone Che ci sono dentro E che possono rappresentare All'interno Del comune Un pensiero Una logica Un discorso Alla fine Il manifesto Che abbiamo visto Nel servizio È simile a quello Che lo scorso anno Ci fu Con il bacio Tra Mancino E De Mita Arriviamo in campagna E elettorale Sempre con queste Apparizioni Anche folcloristiche Da parte di alcune Forze politiche Io penso che Chi vuole essere Classe dirigente Debba Basare A creare un rapporto Con i cittadini Esclusivamente Su quella che è Un'idea Di città Su quelli che sono Dei progetti E magari Provando a coinvolgere I cittadini Poi mi farete sapere Soprattutto Stefano E Roberto Insomma Che idee hanno Di questo discrimine Di cui abbiamo Anche parlato Questa settimana Studio sera Tra il vecchio e il nuovo Tra il passato e futuro E quindi Questo spartiacque Che in qualche modo Anche In maniera Un po' surrettizia Si pone O si intende Porre come questione Centrale Della prossima Campagna elettorale Amministrativa Ad Avellino Padre Siriac Padre Siriac È in Italia Siriac intanto Se traduciamo in italiano È un nome Per le discussioni Politiche Che stiamo facendo Padre Siriac Padre Siriac Lei sa che questo Ciriaco In provincia di Avellino È un nome Molto Molto noto Molto discusso Molto Che contrappone anche Non c'entra niente Da quanti anni È in Italia Padre Siriac? Da lontano 1994 Sono arrivato Qui in Irpinia E poi Ho girato Per Tante parocchie Della diocesi Di Avellino E per il momento Presentemente Mi trovo In Duomo Come vice parroco Della cattedrale Di Avellino E nel tempo libero Che ho creato Veramente Poi che Devo occupare Diciamo Utilmente Mi sono detto Di Comunque Di non farlo Così passare Così Inutilmente In vano Quindi L'iniziativa Della Associazione Padre Teresa Di cui tra poco Parleremo Però Padre Siriac Ci dice Un po' L'idea Che lei Matura Ogni giorno Come sacerdote Della diocesi E per di più Occupato Negli uffici Della Cattedrale Che città È questa Lei Deve avere Imparato A conoscerla Abbastanza bene Qual è L'animo Della città Prevalente Che lei Scorge Soprattutto A cominciare Dagli ultimi anni Diciamo Che La città Di Avellino È una piccola città La gente Si conosce E poi Soprattutto Sto notando La differenza Tra Questi tempi Che stiamo Vivendo E i tempi In cui Sono arrivato Qui Era Un tempo In cui Il cristianesimo Era Molto vivo Era molto Sentito E poi Nonostante La lingua Che Anche oggi Non è tanto Sciolta Nonostante Questo Diciamo Problema La gente Ascoltava La gente Aveva Tempo Di fermarsi Soprattutto Nei nostri Ambiti Voglio dire Lo spazio Chiesa Adesso Adesso Non tanto Ci vuole Un'altra Forza Un'altra Ispirazione Un'altra Pedagogia Per Avvicinare Far avvicinare Le persone Le persone Soprattutto Battesate Sono tutte Battesate Però Si direbbe Che Una 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 Certa Percentuale Non lo sa Non lo vuole Neanche Sapere Anche su Questo Senza Neanche Stiracchiare Troppo Il ragionamento Si potrebbe Dire Che Diciamo Così La Lo sparpagliamento La 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 riduzione Anche Di Di Certi Valori A cui Corrispondono Certi Comportamenti E Atteggiamenti Anche Nel campo Civile Nel campo Pubblico Rende Anche Più Difficile La Politica E Come dire Non ne Aumenta Certamente La Qualità Nella Riunione Di Ieri Di Si può La Sinistra I Movimenti Hanno Rilanciato Al Partito Democratico Una Sorta Di Ultimo Appello Il Metodo Che Avete Inaugurato Per Costruire Una Alleanza E Dentro Questa I Contenuti Che Un' Alleanza Deve Avere È La Strada Più Sbagliata Che C'è Per Servire Gli Interessi E Bisogni Di Avellino Da Uno A Dieci Roberto Montefusco Poi Parleremo Nel Dettaglio Di Alcuni Punti Ricorderemo Questa Posizione Della Sinistra Da Uno A Dieci Qual È Il Voto Rispetto Ad Un Possibile Ascolto Da Partito Democratico Mettiamola Così Per Adesso È Ampiamente Insufficiente Noi Abbiamo Posto In queste Settimane Il Tema Diciamo Dell'esigenza Di un Radicale Rinnovamento Del campo Progressista Della Città Lo Abbiamo Fatto Partecipando A due Assemblee Promosse Dall'Associazione Controvento Nelle Quali abbiamo Detto Con chiarezza Che Ritenevamo Imprescendibile Per Avellino Aprire una Fase Nuova In termini Di classe Dirigente Di proposta Politica A queste Domande Che devo Dire Non sono Giunte Solo Da Sipu Dalla Sinistra Ma In qualche Modo Anche Da Un'area Difusa Un'immagine Che Noi Abbiamo Colto E Anche Riportato È stata Quella Che Nel Corso Dell'Assemblea Ha Dato Generoso Picone Quando In questi incontri Avuti Con il Partito Democratico Ci è sembrato Di stare In una sorta Di Napoli Milionaria Dove Il personaggio Principale Gennaro Iovine Che torna Dalla guerra Vorrebbe raccontare Ciò che ha patito E vorrebbe anche Mettere sull'avviso Che la guerra Come invece La sua famiglia Non sostiene Perché impegnata Nel contrabbando Sul mercato nero Dice La guerra Non è Finita quella Ma ne sta cominciando Un'altra Che ci sta rendendo Un po' più feroci Se non facciamo finta Di non vederla Vuol dire Che costruiamo Sulla realtà Una risposta Sbagliata Alle sollecitazioni Giunte Dalle due Assemblee di Controvento Il Partito Democratico Ha risposto Convocando Un tavolo Dal A Gennaro A Gennaro Io mi dici Va bene La guerra È finita Sediti Sediamoci a tavola Sediamoci a tavola E mangiamo Un tavolo Dal perimetro Devo dire Abbastanza improbabile Indefinito Non ricevendo Non ricevendo Alcun Alcun Dei contenuti Delle istanze Che nel corso Di quelle assemblee Erano state poste Noi ci siamo Sottratti a quel luogo Lo abbiamo spiegato Sia per ragioni Di metodo Sia per ragioni Appunto Di merito Per Per quello Che quel tavolo Non era Nelle condizioni Diciamo Di dire Di fare E oggi Ci troviamo Di fronte Chiaramente A una condizione Estremamente Complicata Mancano ormai Pochi giorni Alla presentazione Delle liste Il tempo Sta per scadere Noi abbiamo Immaginato Per la giornata Di sabato mattina Un incontro In qualche modo Definitivo Per mettere in campo Una proposta Con chi ci sarà Domattina Però Chi si è portato In qualche modo Avanti con il lavoro Stefano E anche l'associazione Vera Perché Avendo a suo modo Ritenuto Compreso Che insomma Il campo Che si era fatto Che si era messo in piedi Nelle ultime elezioni Che in qualche modo Si tentava Di rimettere insieme Dopo aver rimescolato Un po' di carte Era una cosa Che non avrebbe Non porterebbe Da nessuna parte E da qui Una via autonoma Per proporsi Direttamente Alla città In termini Anche abbastanza Civici Diciamo Sì perché Vera Sabato prossimo Alle 17.30 Quante cose sabato E come faremo Seguirle tutte Una giornata bella Impegnativa Sabato Alle 17.30 Sabato Padre Siriac Sabato Lei che fa Giusto per completare Siete invitati Piuttosto a partecipare Alla Santa Messa Anche perché Stiamo vivendo Un tempo Quindi lei è impegnato Con la Messa Sabato Benissimo Prego Stefano Però Stabilito Che cosa faremo Sabato? Più tardi Saremmo insieme Stefano Scusa Alle 17.30 Dicevo Ci sarà Un evento Di Vera Una proposta Vera Alla Chiesa del Carmine Dove è situato Il comune di Avellino Per concludere Un percorso Che la nostra associazione Ha iniziato Ufficialmente Nel mese di dicembre Un percorso Di ascolto Di condivisione Di partecipazione Di discussione Per fare in modo Che Vera Possa presentarsi Alle prossime elezioni Amministrative Con una proposta Programmatica Che proviene dal basso Spesso La nostra comunità E i cittadini Che affiderete A un vostro candidato O che affiderete Ad un altro candidato In questo caso Penso a Gianluca Festa Per esempio No Il nostro obiettivo È quello di andare A creare una piattaforma Programmatica E fare in modo Che questa Con la nostra lista Noi stiamo costituendo Una lista Che sarà A mio modo di vedere La più giovane Della competizione Elettorale Oltre che caratterizzata Da un profondo rinnovamento Questa proposta Programmatica Noi andiamo A proporla Ai candidati Sindaci Del perimetro Del centro-sinistra Dopodiché È logico Che oggi Vediamo Uno scenario Politico Che si costituisce Prevalentemente In due grandi blocchi Uno È il tavolo Della conservazione Ovvero Quel tavolo Che vede dentro I personaggi Che hanno causato La sconfitta Del centro-sinistra Lo scorso anno Che a mio modo di vedere In questo periodo Non sono riusciti A comprendere Ad analizzare Le cause Per le quali I cittadini Il 10 giugno Hanno preferito Un altro movimento Politico Quali i movimenti 5 stelle Stanno andando A riproporre La stessa identica cosa Con gli stessi personaggi Addirittura Forse Aggiungendone altri E si è arrivati A 10 giorni Dalla presentazione Delle liste Che il centro-sinistra Parla di nomi Di gruppi E non di programmi Da un altro lato C'è un dialogo aperto Con chi ci ha invitato Ovvero Con chi condivide La volontà Di ragionare Con un'altra logica Quella appunto Di una coalizione All'interno della quale Non ci siano 12 correnti Che poi Non portano Neanche a una buona Amministrazione Sembra più Una suddivisione E una spartizione Di poltrone Allora Il nostro programma Che oggi Appunto In fase di costruzione Perché proviene Dall'ascolto È basato Sulla Visione dei giovani Come motore Della rinascita cittadina Se ci sarà Un candidato sindaco Del centro-sinistra Che metterà Al centro Dei contenuti Questa chiara volontà Del gruppo Vera Allora Potrà Diciamo Questo dialogo Concretizzarsi In un progetto Più ampio Ma quello che Accadrà sabato È un momento importante Perché Mentre gli altri Parlano Nelle stanze Provano a scegliere I nomi Danno i veti Noi ascoltiamo Le persone Noi andiamo Tra i cittadini A chiedere Che cosa ne pensano Delle attuali condizioni Della città Andiamo ad ascoltare Se ci sono idee Proposte Siamo disponibili Ad allargare Il nostro La nostra proposta I nostri Cavalli di battaglia Che da tempo Portiamo avanti Con quello che È un mondo Trasversale Associazioni Imprenditori Commercianti Giovani Ragazzi che vivono Nelle zone periferiche E non riescono A vivere la città Ecco È da loro Che noi dobbiamo partire Perché la gente Deve sentirsi Dentro Alla città Bisogna di acquistare Quel senso di comunità Che si è perso Rispetto a quello Che sta accadendo Dalle altre parti Sabato Ovvero Persone marginali Ne sapremo di più Anche dall'associazione Vere Ma ne sapremo di più Anche Su quest'altro Fronte Che è un fronte Parallelo Non è un fronte Necessariamente Avverso Della sinistra Roberto Montefusco I tempi Sono ristrettissimi Programmi Condivisione Quella pure Operazione Svelamento Che è stata Richiamata Richiamata Ieri Nell'assemblea Di ieri Cioè Il mettersi Di fronte Alla realtà Per quella Che è E analizzarla Anche Nelle cose Che abbiamo fatto Finta di Dimenticare E però Siccome i tempi Sostretti Un sindaco Sul quale Un candidato Sindaco Del centrosinistra Che oggi Ruota intorno Al partito Democratico Condiviso Dalla Sinistra Sarebbe Una garanzia Per Rappresenterebbe Una garanzia Per Per poter Siglare Un'intesa Devo dire Noi abbiamo Posto In maniera Molto precisa In particolare Nella seconda Assemblea Ci vengo Su questo Perché il punto Non è solo La candidatura Sindaco Il punto per esempio È anche il perimetro Della coalizione E allo Stato Non mi è chiaro francamente Il perimetro Che il tavolo Di dettagliamento Chi è Secondo voi Come dire È in grado Di definire C'è Ovviamente La questione Della modalità Di costruzione Di composizione Delle liste Poi arriva La scelta Del candidato Sindaco Che deve essere In qualche modo Sintesi Di un'istanza Di rinnovamento Di cambiamento Devo dire però Che trovo Assai improbabile Che a questo punto Per quello Che è maturato In questi giorni Possa arrivare Dal partito Democratico In queste ore Perché ormai Parliamo di ore Diciamo Una risposta Convincente Alle questioni Che sono state Che sono state poste Se la logica È quella Della continuazione Del sentiero Della strada Del tavolo Di viatagliamento Non porterà Da nessuna parte E non sarà Il nome di un candidato Piuttosto che un altro Lasciatemi Brutalizzare il discorso Se il partito Democratico Dice alla sinistra Insomma I tempi I tempi Sono quelli Che sono Mettiamoci E troviamo L'intesa Su 4 o 5 Questioni strategiche Per il comune di Avellino A cominciare Dai tempi Che vogliamo Tagliare Per uscire Da ente Strutturalmente Deficitario 4 o 5 punti strategici Dateci il nome Di un sindaco E lo votiamo Voi glielo date Sto nome O no Ho brutalizzato Lo so che ho brutalizzato Però insomma Ne abbiamo parlato Tanto Di programmi Contenuti Eccetera Alla fine Potrebbe Non c'è Non c'è questo Automanismo Nel senso Che noi abbiamo Detto davvero Con chiarezza Sia in termini Di programmi Di priorità Per la città Di elementi Di merito Sia in termini Di metodo Quello che Ritenevamo Occorresse fare Siccome non è stato Cominciato a fare Un certo discorso Alcuna risposta L'abbiamo fatto Pubblicamente L'abbiamo fatto Pubblicamente Di fronte a un'assemblea Partecipata Di fronte agli organi Di informazione Noi rimaniamo Esattamente lì A quello che abbiamo Detto nel corso Delle assemblee Di controvento E a quella domanda Occorre dare una risposta Vorrei dire Solo questo Insomma Che noi metteremo In campo Una proposta All'altezza Di quelle domande A prescindere Dal partito democratico Questo mi sembra evidente Facciamo un break Doveroso Con padre Siriac Abbiamo detto Che è padre Siriac Vice parroco Della cattedrale E il responsabile Dell'associazione Di volontariato Madre Teresa Una Ollus Che dal 94 Opera In provincia di Avellino Ma anche in Italia E grazie Ai tanti benefattori In questi 24 anni Praticamente 25 A luglio prossimo Ha svolto Tutta una serie Di attività A favore del popolo Del Buruni Dovremmo vedere Delle immagini Molto belle Ha costruito scuole Campi sportivi Ponti Teatri Acquedotti Progetti per l'agricoltura Per l'agricoltura Ma ci sono anche Diciamo Le adozioni A distanza Le adozioni Internazionali Insomma Un vastissimo Campo Di attività Di attività Nei confronti Del popolo Del Burundi Di cui Padre Siriac Che evidentemente È cittadino Anche Sono cittadino Italiano Queste attività Questi vostri benefattori Questa solidarietà Che non si ferma Non ha fatto registrare Stop da 25 anni A questa parte È un bel segnale Che lanciamo anche da qui È un segnale Grandissimo Anche perché In questo momento Di immigrazione E così via La mentalità Delle persone Può essere urtata Un pochettino Invece Per questo caso E per tanti casi Anche perché La civiltà italiana È una civiltà Di accoglienza Di ascolto Di una grandissima Sensibilità Gli ultimi tempi Qualcuno Qualcuno ha qualche dubbio Sono valori Veramente che si difendono Anche perché C'è una certa Umanizzazione Che ogni persona E soprattutto Questi cristiani Ogni persona Vuole esprimere Cioè Se qualcuno Mi dice Io ho fame Ho fame Non faccio discorso Non faccio discorsi Non faccio altro che Procurare Il cibo da mangiare Per dire All'inizio Nel 1994 Quando sono arrivato Parlato Essenzialmente Di Fenomeni Molto tristi Che Cose Che succedevano In Africa centrale Ruanda Burundi In Tanzania Genocidi Inenarrabili Esattamente Poi Subito Subito Le persone Mi sono venute A trovare Mi hanno detto Cosa possiamo fare E ho indicato Esattamente I ridare Il pane Il pane L'acqua Il vestito E hanno risposto Addirittura Il comune di Cesinari Per esempio Mi ha dato Uno stabilimento Enorme Per mettere in ordine Questo vestiario E altra roba E poi Sono venute Sono uscite fuori Adozione A distanza Poi Adozione internazionale Piano piano Quando abbiamo avuto Il requisito E di requisito Praticamente Dalla Nazione Di poter Fare Tramite Per favorire Le coppie Senza figli Le coppie italiane Senza figli Di poter Andare Nel meandre Della burocrazia Africana E così Noi facciamo Da ponte Questa disponibilità Padre Siriac Questa disponibilità Ampia Che non si ferma Da 25 anni Come fa Se lo fa Il paio Diciamo così Con Lei ne accennava Con le paure Che insorgono Rispetto Agli immigrati Rispetto Agli sbarchi Rispetto Che sono In qualche modo Paure In qualche modo Fondate Percepite Se non fondate Soprattutto Nelle grandi città Nelle periferie Delle grandi Città Come si spiega Questa Lei Come si spiega Questa Questa paura Che è insorta Questa paura È fondata Su Sul Contesto Che viviamo C'è qualche voce Abbastanza grande Che soffia Che soffia sopra Che lucra Addirittura Sui poveri Poi sulla paura Tanti partiti Vincono 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 semplicemente Perché hanno saputo Sfruttare Questo fenomeno E poi dopo L'associazione Madre Teresa Finora Ha contato Su Questo valore Di solidarietà Poi un altro momento Ci siamo conosciuti Perché per tre volte All'anno Con la corrispondenza Che dall'Africa Arriva nelle case Delle persone Con i viaggi pure Abbiamo deberato Completamente Il sospetto Ecco Come ci conosciamo Praticamente Come dei fratelli E ora Con i viaggi Per esempio Con i Sparoci Alcuni paroci Con alcuni gruppi Di italiani Ebbene Siamo diventati Diciamo Due villaggi Villaggio del Burundi Villaggio in Italia E andiamo lì Come se fosse A casa nostra Per dire Il soffiare Su questo fenomeno mondiale Che è la povertà Praticamente E C'è C'è questo fatto E poi è un fatto Molto Negativo Semplicemente Perché sfrutta E sfrutta Attenzione Sfrutta E uno sfruttamento Di lucro Veramente Perché qualcuno Riesce a sfondare Anche politicamente Dicendo che c'è Un E questo fenomeno Delle persone Che vanno Come degli uccelli È un fenomeno Praticamente Umano Le persone vanno Dove Possono trovare Il pane Evidentemente L'accoglienza C'ha la sua Capacità L'accoglienza Non può essere Chissà 150% Però ci deve essere Come valore Come l'altro Mio fratello Che ha bisogno Ha fame Ha bisogno Di una casa Ha bisogno Un lavoro Quando parliamo Di lavoro Ci sentiamo Piuttosto rivali E diventa Un po' Complicato Continueremo Continueremo Dopo Questo discorso Padre Siriac Dobbiamo fermarci Per una breve pausa Riprendiamo Tra pochissimo Studio Sera In diretta La seconda parte Con Roberto Montefusco Coordinatore Provinciale Di Sinistra Italiana Padre Siriac Viceparroco Della Cattedrale Di Avellino Il responsabile Della Ollus Madre Teresa Che si occupa Di Costruire Attraverso La solidarietà Degli Irpini E degli italiani Tante cose Molto significative Molto utili Nel Burundi E con Stefano Luongo Dell'Associazione Vera Padre Siriac Ho saputo Che in Burundi Ci sono Degli ottimi funghi L'ho saputo Nel senso Che voi Incentivate Anche gli scambi Culturali E come sono Sti funghi In Burundi Questi funghi Ci hanno Un nome Tecnico Perché i funghi Ci hanno Sono tanti C'è una tipologia Variegata Poi ho gustato Praticamente Io nel mese Di febbraio Scorso E sono Abbastanza Buoni Proprio buoni Anche in Burundi Si fa come Napoli E ormai Da 25 anni Che È internazionale Da 25 anni Che mangio Mangio qua Mangio Praticamente Napoletano È normale Che sia così E poi Questi funghi qua E anche Un mio desiderio Desiderio Dell'associazione Di vedere Proprio Una Come un ponte Un altro ponte Una Una Diciamo Una cooperazione Culturale In questo senso Ho visto Che in Italia In Irpinia Non tanto Ma a Firenze A Firenze A Bologna Nei paraggi di Roma Ho visto Dei stabilimenti Però Sicuramente Che anche Qua e là Ci sono Delle persone Che sanno Fare meglio Mentre Questo tipo Di Flerotte Qualcosa Così Si chiama Così Flerotte Sicuramente In francese Mentre in italiano Può Può Darsi Che Abbia Un altro nome Allora Siccome Sono ricchi Di proteine Poi Proteine E una sostanza Buona Per la salute E mi dico Guarda Quella gente Del Burundi Mangia Spesso Il riso Ma Tanto Tanto Di quello Riso Poi Tanta patate Patate Le patate Roba Che non è buona Per Ci sono i funghi Con le proteine Approfittiamo Allora Una Produzione Intensa Proprio Industriale Di funghi Sarebbe come Una medicina Torneremo Tra poco Padre Siriac Perché a proposito Di funghi Quelli del Burundi Sono sicuramente Buoni Quali sono I funghi Velenosi Di questa campagna Elettorale Stefano Lu Padre Siriac Se la ride Insomma Qui La faccenda È seria Per così dire Prego Stefano I funghi Intesi Guardando Quelli Velenosi Li possiamo Rapportare No Al rischio Di contaminare La campagna Elettorale Con toni Molto Accesi Io ho partecipato Alla competizione Scorsa E mi sono reso conto Ho visto Da diretto Interessato Che purtroppo Spesso la dialettica Più che su se stessi Sulla loro proposta Si basa Su De legittimare Gli avversari In modo anche Spiacevole Lo hanno fatto Il Movimento 5 Stelle Sia pre-campagna Elettorale Che in fase Di amministrazione Quasi come Se la campagna Elettorale Non fosse mai finita Spero che questo Non riaccada Ora Un problema Che viene posto Secondo me Davanti Alla scelta Dei cittadini Sarà appunto Quello Di rinnovare Il prossimo Consiglio comunale Ci sono Delle Realtà Che Porteranno Personaggi Esponenti Che nei consigli comunali Sono incarniti Che sono Comunque Da troppo tempo Cause Della cattiva Amministrazione Il rinnovamento È obbligatorio Sono felice Della lista Che noi stiamo Componendo Perché il pilastro Principale E fondamentale Non solo Direttore Per una questione Anagrafica Anche Per un discorso Di competenze Di entusiasmo Di volontà Di trasversalità Delle aree In cui stiamo Andando A coinvolgere I cittadini Servono persone Libere Servono persone Che entrino lì Con la volontà E con l'ambizione Di migliorare Questo sarebbe La sorta di Antidoto Se la stessa domanda La ponessi Alla sinistra La sinistra Potrebbe anche dire Di funghi Avvelenati Ne abbiamo mangiati Così tanti Che ci siamo Assefatti Per cui Insomma Non ne moriamo Ma continueremo A mangiarne Probabilmente E questo potrebbe Ma ci sarà Se non è morta Oggi è l'ultimo treno Non voglio togliere La parola A Roberto Però Rimandare di volta In volta La scelta Del meno peggio È un errore Che oggi paghiamo All'Ino è una città morta Insomma È una scelta Che non è più consentita Più fa Non ci si può più Accontentare Diciamo così Per stare A Stefano Lungo Roberto Ma insomma Il rischio vero È che poi Come dire Nel frastuono Di questa campagna elettorale Che si preannuncia Certamente Complicata Dai toni Accesi Virulenti Ne abbiamo già Qualche accenno In questi giorni Poi scompaia La città Con i suoi problemi Con la sua Sofferenza Io vorrei dire Ci troviamo di fronte A un ente Che ha preso atto Di una condizione Di predissesso Che non è Diciamo Una condizione Frutto Frutto Del destino Non è figlia Di un caso Ma di scelte politiche Sbagliate Di una gestione Scellerata Delle finanze Dell'amministrazione Il predissesso Già oggi Cominciano a pagarlo I ceti più deboli Con alcune misure Che in maniera Ragionieristica Diciamo No Semplicistica Il commissario Che non risponde Chiaramente Alla logica Della politica E quindi Anche del consenso Sta mettendo in campo E allora Che si fa Si chiudono Gli asili nido Si aumentano Le tariffe Per la sosta Cioè Tutta una serie Di scelte Che chiaramente Vanno a incidere Su quella parte Di popolazione Che è già più Fragile E più esposta Alla crisi economica Allora io penso Che anche qui Occorre essere seri Di fronte alla città Io vedo Il rischio Come dire Di una finta La conflittualità Tutta quanta In seno Al medesimo Al medesimo Gruppo dirigente La medesima Classe dirigente Che poi in fondo La città Ridotta In queste condizioni Diciamo la verità Lo scontro Di queste ore Insomma La conservazione Il rinnovamento Eccetera Mi sembra In fondo Tutto quanto Dentro Un medesimo Calderone Che poi Quello che In parte È stato insieme Diciamo Già nella Campagna elettorale Scorsa Nella compagine Che sosteneva Nello Pizza Allora io Penso che Occorra Voltare pagina Occorra però Farlo A partire Diciamo Certamente Da una visione Di città Da idee Dal merito Di programmi Noi abbiamo detto Con chiarezza Alcune cose Ad esempio Sull'acqua Ad esempio Sull'urbanistica Sulle politiche sociali Sulla necessità Di Che l'amministrazione Si riappropria Ad esempio Della gestione Di alcune strutture Penso al teatro Ma le idee Camminano Sulle gambe Delle donne E degli uomini E quindi C'è la necessità Di una proposta Credibile Di un rinnovamento Di una discontinuità Profonda Soprattutto Anche nel personale Politico Padre Siriac Stefano Con un orecchio Ascoltavano Ascoltano Roberto E con gli occhi Stanno su Un tablet Che sono funghi Sta facendo pubblicità Sta cercando di Sui funghi Plerotte Si chiamano Come? Diretto Si chiamano Plerotte Plerotte È una parola francese Sicuramente Puntuale Scrupoloso Padre Siriac Andando a controllare Meglio Una cosa però Sembra essere certa Stefano È che Un po' tutti In questa competizione Elettorale Punteranno Sull'azzardo Perché la frammentazione Dello scenario Questo dicono Chi è più o meno Esperto Diciamo E tenendo conto Anche Dei comportamenti Della presenza Alle urne Degli avellinesi Un po' tutti Punteranno Anche sull'azzardo Perché Per passare Al ballottaggio Potrebbe essere Sufficiente Una quota Tra il 23 E il 25 Per cento E questo Insomma Taglia Fa tagliare Molte cose Con l'accetta Se diventa Questo un obiettivo Che apparentemente Sarebbe Alla portata Non di tutti Ma sicuramente Di molti Protagonisti Di questa Prossima Campagna Elettorale Sì Sicuramente Anche se poi Se dovesse andare in porto Questo dialogo Che stiamo leggendo Sui giornali Tra le varie forze Del centro-sinistra Dai popolari Per arrivare Al partito democratico E a movimenti Più A sinistra Si va a creare Non Voglio esagerare Un pizza bis Comunque Una cozzaia di liste Un dato oggettivo Che oggettivamente Se riproporranno Gli stessi nomi Sono favoriti Per arrivare Al ballottaggio Con una Percentuale Anche intorno Al 30% Temo Anzi Quella è la mia idea Che questo Si viene a creare Questa unione Tra queste forze Proprio perché L'unico modo Per arrivare Al ballottaggio E quindi Per essere Competitivi E' vero Bisogna essere In campagna Elettorale Quindi bisogna Presentarsi davanti Alla città Con un progetto Credibile e competitivo Ma non si devono negare Dei principi Se all'interno Ci sono forze Che oggettivamente Non sono andate d'accordo E che quindi Non andranno d'accordo Al netto di questo discorso Io penso Che bisogna avere Anche il coraggio Della scelta Direttore Il coraggio Della scelta Di avere intorno Ad un'idea Una squadra Ben precisa C'è la possibilità Di avere Un consenso tale Da arrivare Al ballottaggio Escludiamo Una vittoria Al primo turno Di qualsiasi forza politica Al 99% Dopo l'elezione Di Ciampi Al ballottaggio Non si può escludere Non si può escludere Che altre Congiunzioni Astrali Però Oggettivamente Se non ha vinto Pizza Al primo turno Le congiunzioni Astrali Di Romventi Sono abbastanza Irripetibili In ogni caso Chiunque riguardino Chiunque favoriscano Le congiunzioni Astrali Sono sempre Abbastanza Irripetibili Se non ha vinto Anello Pizza Al primo turno È complicato Che oggi Con coalizioni Dimezzate Accada la stessa cosa Quindi dicevo Oltre al calcolo Statistico È importante Che la gente Possa Acquistare La fiducia Intorno a quella Proposta Direttore Io poi In queste Settimane Nei vari approfondimenti Nei giornali Leggiamo Di queste trattative E ripeto Non leggo Poi lo si farà Nel solito Mese Della campagna Elettorale In che modo Si prova A stare Uniti Intorno a quali Idee Intorno Qual è il pensiero Sulle strutture pubbliche Della città Qual è il pensiero Sulle zone periferiche Sulle condizioni Delle persone E sui mancati Collegamenti con il centro Qual è il pensiero In che modo Avellino Possa Ritornare Ad essere una città Dove i giovani Non partono Quindi dove si trova Lavoro Dove si possa Formare un ragazzo Non vedo Qual è da oggi A dieci anni L'obiettivo strategico Per portare Un indotto economico Se c'è una Visione turistica Se si punterà Sulla stazione Io temo che Come lo scorso anno Io ero uno dei diretti Interessati Si provi Effettivamente A fare le somme Algebriche E non Un dialogo Costruito Su dei contenuti E oggi Siamo a metà Tutto questo Discorso Che continuiamo a fare Fuori discussione Che una forte Chiara Base programmatica Sia Insomma Il minimo Del rispetto Dovuto Però noi Un po' Dimentichiamo Che l'elezione Diretta del sindaco Ha ribaltato Un po' Questa cosa E la faccia La persona Il profilo La personalità La storia Del candidato sindaco Che spiega In nome Per conto Di chi lo sostiene Che cosa vuol fare Come lo vuol fare Questo L'uovo La gallina Prima i programmi I primi contenuti Poi i nomi Ma in realtà L'elezione diretta Agli occhi Dei cittadini È essenzialmente Questa Che i partiti Si vedano I movimenti Facciano programmi L'opinione pubblica Il cittadino Fate Poi Vogliamo capire Chi ci spiega Questa cosa Perché è il candidato Forse è questo Che non si Che è un po' Questo Che rompe il circuito Dopo Dopo Stefano Roberto Non c'è dubbio Non c'è dubbio che L'elezione diretta Del sindaco Abbia introdotto Un meccanismo Di questo tipo Che il nome Del candidato Sindaco Perché al cittadino Gli puoi dare I libri Di programma Non è che quello Voda Per un programma Di 300 O di 3 pagine Voda Per il candidato Che gli spiega Quelle 3 O quelle 300 pagine Certo Il nome del candidato Sindaco Evoca Quanto meno È un pezzo Del programma Dopodiché Ci sono Due aspetti Il primo Noi abbiamo visto Anche nella storia recente Della vita politica Amministrativa Della città Penso in particolare All'esperienza Foti Ma non solo Quanto in realtà La tipologia Di maggioranza La qualità Della rappresentanza Consiliare Gli interessi Rappresentati Condizioni In maniera Molto forte Anche il sindaco Nonostante appunto Una forte investitura Popolare Legata Dalla elezione diretta Secondo punto Ci sono poi Naturalmente Delle questioni Di merito Che se non affrontate Finiscono poi Per esplodere Per determinare Diciamo anche voi Condizioni di difficoltà Ne dico Una per tutte Oggi Sta Ritornando Un attimo Alla ribalta La discussione Sul futuro Di alto calore Servizi Un'azienda Così importante Nella quale Comune di Avellino Ha delle quote Significative Noi ad esempio Riteniamo che occorra Scegliere la strada Dell'azienda speciale Di diritto pubblico È una scelta strategica Non sappiamo Da questo punto di vista Il pensiero La proposta Di altre forze Politiche Lo dico Perché poi Chiaramente Ci sono Dei nodi Rispetto Ai quali Le alleanze Si caratterizzano Diventano Progetto Programma Visione E chiaramente Non affrontare Questi temi Di fondo Di rimenti Può diventare Un problema Anche nel momento In cui ti trovi Ad amministrare A governare Stefano Voleva aggiungere qualcosa A proposito Insomma Di questa cosa Dell'elezione diretta Che insomma Mette il candidato Sindaco Di fronte Alla responsabilità Di essere credibile Nei confronti Degli elettori Sì perché Se è concettualmente giusto Questo passaggio Che lei fa direttore Bisogna anche dire Che secondo me La gente Si è totalmente stancata E l'elezione La mancata elezione Di Nello Pizza Un personaggio stimato Un professionista serio Ne è la prova Qua io Ascolto Per strada Commercianti Che stanno chiudendo Genitori Che Dei miei amici Che dicono Intanto mio figlio Se n'è andato Che quando poi Si ritrovano A dover votare Soprattutto al ballottaggio Quindi Tra due Diciamo Proposte Vogliono capire Quel sindaco Che cosa intende Realmente fare per la città E vuole capire Con chi Lo vuole fare Ripeto Lo scorso anno La sconfitta Di Nello Pizza È comunque significativa E va vista Per quel tipo di messaggio Che la cittadinanza Ha lanciato Ok che nel primo turno Ci può essere Un voto relazionale Perché Con molti candidati Si può votare L'amico Rispetto a chi Ha un'idea in più Un'idea in meno Ma al secondo turno Oltre alla persona In sé per sé Ci sono una serie Di fattori Perché Effettivamente Le problematiche Di questa città Sono talmente serie Gravi Che chiunque Si sta iniziando A svegliare E il primo avvertimento Ecco perché Prima dicevo Che il PD Non è riuscito A cogliere Questa cosa Lo ha dato proprio Bocciando Una persona seria Come Nello Pizza E votando Una scommessa Esclusivamente Perché Era nuova E quindi potiva Non lo ha fatto Ma potiva Rappresentare il rinnovamento Quale Ciampi Quindi io Stare su questo tipo Di discorso Una cosa Può diventare Può diventare Certa Nella sua Improbabilità Roberto E che Nelle condizioni date Insomma Scommettere Su chi va Al ballottaggio Nella situazione Che Abbiamo sotto gli occhi Oggi È una sorta Di terno allotto A meno che uno Non si faccia I film luce Pensa di avere Al di là Della composizione Delle alleanze Che verranno fuori In queste ore Nei prossimi giorni Che pensa Di essere Più o meno certo Di arrivare Al ballottaggio Rischia Bruschi risvegli A dir poco Ma sicuramente La frammentazione È troppo vicina Alla precedente elezione E certo E quindi Da questo punto di vista I cittadini Un po' la capisciola Come si dice Al mio paese L'hanno capita Quello che mi colpisce È la dissociazione Del dibattito Di queste settimane Di questi giorni Rispetto Alla domanda Che è venuta fuori Dalla competizione elettorale Di soli dieci mesi fa Non dieci anni fa E quindi Insomma Qualcuno Immagina Come se nulla Fosse accaduto Di riprodurre Esattamente Gli stessi schemi Che già hanno portato A sbattere Innanzitutto Il partito democratico Magari Immaginando Di perdere Qualche pezzo Di qui E di recuperarlo Da qualche altra parte Ma tutto questo Davvero Dal senso Di una miopia Politica Preoccupante Fare pronostici Su chi andrà Al ballottaggio Su come E poi Eventualmente Su quale Potrà essere Il risultato Del ballottaggio Io credo Che sia assolutamente Azzardato E fuori luogo Quello che Penso Sia Nel dovere Diciamo Delle forze politiche Che ancora Immaginano Di esercitare Questa funzione E di mettere in campo Una proposta All'altezza Della domanda radicale Di cambiamento Che la città Espresso Io ho detto Capisciola E padre Siriac E' un po' Sbigottito E' la cosa Che non si è conosciuta Fino a un certo momento E da un certo momento In poi Diventa visibile Conosciuta Diciamo così E' la sostanza Di una cosa Che era Che non era stata Disvelata In precedenza Il vescovo di Avellino Rapporti Lei suona la chitarra Pure lei Il pastore Veramente mi piace Il canto Oddio Allora siamo proprio Il responsabile C'ha le forze C'ha la spiritualità C'ha la cultura C'ha la volontà Si mette veramente Con responsabilità Con senso anche di amore Si vede che E' profondamente attaccata Alla sua missione E questo è essenziale Cioè è spinto Da uno spirito D'amore Che lo fa Proprio Sborgere la sua attività Con strancio L'anno scorso L'anno scorso Il vescovo Arturo In occasione Colse l'occasione Rispetto al Trambusto elettorale Non per far sapere La sua opinione Ma per raccomandare A tutti i protagonisti Della vicenda politica Di mettere al centro Il bene dei cittadini E della città E in quell'occasione Monsignor Aiello Disse che la città Non è che se la passava Abbastanza Abbastanza bene E rappresenta lui L'insegnante Dei valori Lui deve Indicare Al suo popolo Il popolo Che guida Il valore Il bene di tutti I valori Praticamente Siamo con me Siete nel campo Della solidarietà Nel campo Del sostegno Dell'aiuto La verità Qual è? È semplicemente L'umanizzazione Del nostro presente E poi il futuro Della nostra vita Della vita Dei nostri Quando c'è il bene Questo bene Per noi Lo facciamo noi Per noi Ma essenzialmente Questo germoglia Nel futuro E le generazioni Che vengono Trovano che Abbiamo tracciato Per esempio Noi sacerdoti Abbiamo tracciato Il senso Del nostro Celibato direttore Ma se io non Genero Il mio popolo Se non Genero Diciamo La mia comunità Se non Indico Indicare È semplicemente Dare un segno Di donazione Un segno Di sacrificio Un segno Semplicemente Di una spinta Per fare Crecere Per promuovere Che pedagogia Che senso Quando Quando i sacerdoti Come padre Sidiacchi Vescovi Dicono Queste cose Tutti si mettono Non dico Sugli attenti Parole Santissime Giustissime E poi invece Succede un po' Diversamente La politica È anche Diciamo così Contraddizione Però è una Contraddizione Che non può Tirare Non può andare Oltre Oltre Certi limiti Rispetto a chi Dice Di voler Appunto Far tesoro Di indicazioni Di valori E di E di percorsi Stefano Lungo Siamo le battute Finali Sabato L'associazione Vera Praticamente Dirà Anche Chi sosterrà Se sosterrà Qualcuno Credo di sì Però No Sabato Dobbiamo Provare A creare Una Grande Giornata Delle Idee Questo È l'obiettivo Perché Vera Conclude Il percorso Di partecipazione Non è Vera La realtà Che si Candiderà Alle Comunali Quindi Vera Come Associazione Culturale Sociale Chiude Un percorso Di ascolto Infatti Voglio fare Il mio Appello A tutti Gli Avelinesi A tutte Quelle Persone Che Sono Alla Ricerca Di Un Riferimento Autonomo Giovane Libero Per Rappuntarci Il loro Punto Di Vista Per Avanzare Un'idea Per dare Il proprio Contributo Per la Città Dopodiché Da lì Noi Insieme agli Spunti Raccolti In questi Mesi Andiamo A programmare A presentare Una serie Di 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 Quindi I candidati Avrete una Vostra Lista Avrete una Vostra Lista Avrete una Nostra Lista Che sarà Sostegno Appunto Di cui Il sindaco Che ci farà Capire Che i Giovani Non sono Uno slogan Non sono Usati per Le campagne Elettorali Ma sono Realmente C'è la Convenzione Che Realmente Siano Il pilastro Della Rinascita Della Città Perché Altrimenti Non ci sarà Dialogo Con nessuno Roberto Sabato Succede Che cosa Ma avete Già formalizzato Questo incontro Vi siete sentiti Dove vi vedrete Che succede Noi ci vedremo Presso La struttura Del centro Le Querce Ad Avellino Lo abbiamo Annunciato Ieri sera Ci incontreremo Insieme a Chi sceglierà Di condividere Insieme a noi Un percorso Che si faccia Carico Delle domande Che abbiamo Posto In queste Settimane Rinnovamento Cambiamento Discontinuità Chiaramente Nel solco Del campo Diciamo Progressista Di sinistra E Verificheremo Le intenzioni E le volontà Anche a prescindere Appunto Dal partito Democratico Qualora Le risposte Delle prossime Ore E in ogni Caso Insufficienti Questo Questo mondo Di sinistra Che chiede Di essere rappresentato Si rappresenterà Con una propria lista E con un proprio candidato L'abbiamo detto prima La sinistra Come sempre Sarà in campo Con le proprie donne I propri uomini Bene Padre Siriac Io la ringrazio molto Per essere stato qui Con noi Stasera Ci saluti Il Vescovo Grazie Ci saluti Il Burundi Stasera Sarà fatto Veramente Ci porti Dei funghi Ce li faccio Assaggiare Così Ci cerchiamo di fare Comparazioni E sviluppare Nuove ricette E soprattutto Buon lavoro Una grande Cooperazione Con voi E con tutti i popoli Anche per develare Per cancellare Una volta per sempre Le guerre E metti il ponte Dell'amore Della solidarietà Del sostegno Soprattutto Buon lavoro Con l'associazione Madre Teresa Per le cose Che continuerà a fare A favore del popolo Del Burundi Grazie alla solidarietà Alla umanità Al senso di responsabilità Anche Che la solidarietà Incarna E rappresenta Rispetto invece A come diceva Padre Siriac Chi soffia Sul fuoco Delle paure Delle incertezze E provoca Problemi molto Più grandi Di quelle paure Che invece Possono essere Smontate O certamente Acquietate Attraverso Un ragionamento Umano In modo particolare E soprattutto Molto più Serio E razionale Quando vai In Burundi La prossima volta? Nel mese di agosto Nel mese di agosto Se possiamo liberarci Verremo volentieri Insieme a lei A conoscere Questo meraviglioso Paese E questa meravigliosa gente Grazie a Roberto Montefusco A Padre Siriac A Stefano Luongo Grazie direttore A Gianluca Cavaliere Che ha lavorato con noi In studio Per concludere La settimana di studio sera Per la documentazione E la copertina Francesco Rinaldi E Alfonso Tarantino In regia Il collega Manuele Angheloni Finisce la settimana di studio sera Noi ci rivediamo Martedì Sempre in diretta Sempre alle 17 Su Prima TV Buon proseguimento di giornata E soprattutto Buon fine settimana A tutti voi Arrivederci Non sono proprio la stessa cosa Il manifesto 6x3 Che denuncia il tavolo Della conservazione A cui sta lavorando Il partito democratico Sotto le presunte guide Di Ciriaco De Mita E Nicola Mancino E le vele Che il Movimento 5 Stelle Fece girare in città Con i volti Di quei consiglieri comunali Che votando Contro una delibera Proposta dal sindaco Ciampi Venivano indicati Come gli affossatori Della festa più importante Della città Dalla delegittimazione Alla neanche tanto Sottile denigrazione Il passo è breve Il messaggio che si lancia Cancella di fatto Ogni didascalia E mette in primo piano I volti Cioè le persone Quella che potrebbe pure Essere la materia Del contendere Le conventicole Opposte alla trasparenza Che si deve agli elettori Sparisce per proporre Invece unilateralmente Una sorta di caccia Ai ricercati Credo che a suo modo Questo tipo di comunicazione Politica Stia nella più ampia Scia del pensiero Breve dominante A cui aggiunge Piccole ma significative Dosi di imbarbarimento Le vele di Carlo Sibili Hanno rappresentato Tutt'altro E di molto peggio Quando le abbiamo fatte Noi Dice oggi il sottosegretario Erano gogna mediatica Ora vedo titoli Di giornale Clementi E la sinistra Pelosa Dormire Sogni tranquilli Ipocrisia E disonestà Intellettuale Viscerale Malattia Inguaribile A farci ritornare In argomento È proprio La odierna Rivendicazione Di quella Iniziativa politica Violenta E la mancanza A distanza di tempo Di un minimo Di sopravvenuta Resipiscenza Quelle vele Ricorrendo all'inganno Del popolo sovrano Proponevano Una sorta di caccia All'uomo Con taglia Inclusa Nei confronti Di quei consiglieri comunali Che avevano votato Contro Una delibera Peraltro mal confezionata Sulla organizzazione Del ferragosto Avellinese Quella iniziativa Rispetto alla quale Il sindaco Sulle prime si scusò Ma poi richiamato All'ordine Ne rivendicò A sua volta La paternità Andò ben oltre L'agonia mediatica Per vie brevi E disperate Voleva riscrivere La costituzione Che è una cosa Molto più seria Di chi propone Un tema Non so quanto vero Vecchio e nuovo Passato e futuro Utilizzando le armi Di una goliardia Banale e discutibile Questo programma È offerto da Mech Solution Olio basso Fedele nel gusto Neuromed Lloyd's by Hotel Vietri sul mare Design in luce Emporio del caffè